... Nel ultimo video benvenuto a questo nuovo format che si chiama K4U Cominciamo subito perché gli appassionati sicuramente vorranno... Allora, l'ultimo evento in termini di tempo, proprio in cronologia, è stato Chopper City Bergamo, Alzano Lombardo, tu ci sei stato e hai filmato, il filmato è suo Il primo evento di questa nuova organizzazione, molto bello come evento, una location spettacolare Era una vecchia cartiera della Pigna, andata in disuso, un locale dei locali fantastici E questo luogo ha ospitato questa, possiamo dirla, fiera di moto In realtà era una fiera, per modo di dire, più un evento come piace a noi del mondo del custom Video Andiamo subito col video, che le immagini sono migliori delle parole Le telecamere di Neurotv oggi sono alle porte di Bergamo, in parte di Mana Siamo venuti a scoprire questa nuova fiera, è la prima edizione, si chiama Chopper City E siamo veramente curiosi di andare a vedere cosa ci sarà al suo intero Chopper, ovviamente, ma non solo 3, 2, 1 Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo di nuovo in diretta per la parte auto del Chopper City. Vi avevo promesso che vi avrei fatta vedere. Sarà una diretta non molto grande perché lo spazio è stato più dedicato alle moto, visto anche il nome della fiera. Quindi vi faccio vedere solamente che auto hanno portato. C'è anche qualcosa di bellino, qualche personaggio che abbiamo già visto. Colore molto particolare, devo dire. Sembra quasi un po' in stile Monkey Garage. Il verde è quello lì. Oh, questa è anche abbastanza carina. Un po' particolare come macchina. Allora, anche qua le abbiamo un po' d'epoca e un po' moderne. Allora, le chiudiamo con loro, che tanto le avete già viste. una camera dei giorni nostri. Questa è anche molto molto bella. Allora, questo Chopper City a me dà l'impressione di essere stato fatto in un posto molto esclusivo, molto bello. Assolutamente sì, Roberto. La location era una vecchia cartiera della Pigna, la prima cartiera della Pigna. Pigna è quella dove abbiamo disegnato tutti da ragazzino. Esattamente. I locali erano fantastici, un po' quel vecchio industrial, quello che va molto di moda, esatto, soprattutto nell'ambito delle moto. Ma sono impaziente, andiamo da un'altra parte. Allora, noi adesso, visto che fa ancora bel tempo e fa caldo, potremmo andare a Caorle. Ah, a Caorle è bello, sul mare è bellissimo. A Caorle c'è stato l'evento di queste macchine. Ah, ma ha dato quelle che ho fatto fuori. E niente, ce le avevo in tasca. Di queste macchine che sono chiamate comunemente e vulgarmente hot road. Hot road, sì. Che non sarebbe strada calda, non sarebbe Giela Roy. Giela Roy. Spiega tu che mi hai iniziato. Ecco, allora, qui a Caorle, già da qualche anno, i Fifties Brothers organizzano un evento sulla spiaggia, che un po' si rifà la Gentleman Race, che si è dalle parti di New York, New Jersey, da quelle parti lì. Glock. 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 Questa zona nostrana, diciamo, quindi dalle parti del Veneto. Già trovare una spiaggia che ti ospita delle macchine che vanno a sgommare è già un problema. Loro ce l'hanno fatta. Soprattutto sgommare sulla spiaggia. Step 2. Il portale delle macchine americane che arriva da mezzo Europa, perché quest'anno c'era un'auto da mezzo Europa. Andiamo a vedere? Sì, 300 equipaggi. 300 equipaggi, bellissimo. Andiamo a vedere. Engines are warming up as the sand goes down, my heart is just pumping up, the pressure is high. The star lines on fire, the wheels take their grip, turn by the race track, all I need is... Il Roland Flat nasce come evento del Car Club, ma si è evoluto nel tempo in una località turistica, di cui non posso fare il nome, vicino a qui, in cui eravamo lì a fare un cruising, cioè una sfilata di auto, e due dei più temerari dei nostri hanno preso la macchina e sono entrati in spiaggia. Da lì sono scattate centinaia di foto che ci hanno fatto pensare. Bellissimo! La sabbia è un giocattolino non solo per i piccoli, ma anche per gli adulti. Perché non la facciamo sta cosa qua ufficialmente in spiaggia? E il comune di Carle ce l'ha concesso. Buongiorno gente! Siamo qua, sempre al form, sempre in tour, Nero TV, con Roland Flat. PASTA KUSUKU TEAM! Aspetta che giro, passa di qua che siamo ancora... Di qua, passa di qua! Home e PASTA KUSUKU TEAM! Roland Flat, spettacolo! Buongiorno a tutti! 300 equipaggi iscritti. Aspetta che guardiamo dietro chi è arriva. Ok, bella. C'è un macchinino lì. Io qui di dietro non li farei entrare, gli altri. Allora, chiudiamo a telecomerone. Tutto per 65, comunque. Il Fifty Bratter fa veramente un capolavoro di evento. Un capolavoro, veramente. Vado veloce perché ce ne sono talmente tante. Sta già gareggiando le moto, già gareggiando. C'è una valanga di road, oltre a tutto. Veramente tante. 24, e PEPPER, 404, 408. Flutter. Se avete il cambio, vi ricordo che all'interno della nostra area... Ragazzi, questo è figo, eh? Assolutamente. Cioè, io... In spiaggia con le macchine, ragazzi, è veramente america. Io ho messo con la moto da ragazzo, ma erano altri anni. Con la macchina è difficile. Sì. Soprattutto in Italia, dove c'è tutta una situazione di verdi ambientalisti, cose che vuol dire... Sì, quella c'è un po' da tutte le parti del mondo, però ogni tanto qualche intraunazzo si riesce ad avere. E sono stati bravissimi i ragazzi 50's Brothers a prendere l'occasione. Ah, a prendere l'occasione e a tenere insieme questo gruppo che continua sempre ad aumentare. Assolutamente. Molto bravi. Ora, parlando di macchine, tra virgolette, vecchie... E dove andiamo? Visto che Nero TV spazia in tutto il mondo... Andiamo in Finlandia. Ah, fantastico. Mi ricorda qualcosa. Tu in Finlandia hai intervistato Niklas, che è il proprietario non di uno, ma bensì di due future liner della GM. Nella GM, sì. Cos'è un future liner? Il future liner sono... Ok, il future liner è... Il future liner è... Come dice il nome stesso? È un mezzo espositivo per i prodotti del futuro che negli anni 50 venivano esposti e mostrati alla popolazione. Ovviamente era una fiera itinerante. 12 bus... Era una pubblicità itinerante. Sì, erano 12 bus con il fianco apribile, dove dentro c'era mostrato quello che sarebbe stato il futuro degli americani e non solo, quindi anche dell'occidente. E i microonde, i frigoriferi, la lavatrice... Sì, ogni future liner era dedicato a una categoria, un settore particolare, quindi c'era quello che si occupava dell'acqua, quello che si occupava della corrente, quello che trattava il calore... Parliamo di un mezzo con ruote gemellate davanti e dietro e siamo riusciti a perderne 4. Sono scomparsi. E sottolineo che ne avevano prodotti 12 e ne sono rimasti 8. Niklas ne ha 2. Uno per fare dei cambi di quello che sta salvando. Sono circa 8 o 9 anni che imparlo. Questa è l'intervista. Assolutamente interessante da non perdere. Ciao a tutti per NeuroTV. Questa volta siamo in Finlandia, a Lati. Siamo venuti fino al nord d'Europa per godere di uno show fantastico, Yankee Car Shows. Ho incontrato un amico, Niklas, che avevo già incontrato in Svezia qualche anno fa. e lo porto davanti agli schermi di NeuroTV perché ha un pezzo veramente, veramente eccezionale. Si tratta di un Futureliner che purtroppo non è qui, purtroppo non è qui in fiera, ma voglio cogliere l'occasione comunque per fargli qualche domanda perché, come ci dirà lui, è uno dei 6-7 pezzi esistenti al mondo. Visto che abbiamo poco tempo. Hi Niklas, thank you very much, here we are with NeuroTV, a WebTV, Italian and Worldwide TV. So thank you, thank you for talking with us. Quindi voglio solo spiegare che appunto questo è un mezzo che è stato costruito alla fine degli anni 30, 39 e 40, sono stati costruiti 12 esemplari negli Stati Uniti e addirittura decensito su Wikipedia, lo potete cercare, ed era stato costruito per la fiera dell'innovazione tecnologica, quindi negli anni 40 ed è stato utilizzato proprio per la GM, General Motors, faceva un tour per tutti gli Stati Uniti portando quello che erano le novità tecnologiche, quindi i forni microonde, i primi mezzi tecnologici che c'erano allora, ma sentiamo la vera storia di questo. So, I explain in Italian that, for what we know in Wikipedia, we look in Wikipedia, it's your name also in Wikipedia, there are 6 streamliner existing, right? Future line, future line, sorry, future line existing. So, your is the number? Number 8, exactly. So, how did you find it, come l'hai trovato? And tell us about the restoring, because you find the piece like this. Yes. L'hai trovato in queste condizioni, where did you find? Dove l'hai trovato? In California, across on my internet. Ah, so easy, l'hai trovato in California ed era semplicemente un'inserzione su qualche sito internet. e quindi l'hai trovato per tanti anni e finalmente ne ha trovato uno. Which year it was? Che anno era? L'ho trovato nel 2007. Nel 2007. We came to Sweden 2009. Ed è arrivato in Svezia nel 2008. And how much time it takes to rebuild it? Well, we had about ten years of it. So, it's not finished yet? No, it's an income about 70%, something like that. Ok, quando l'hanno trovato, speravano, avevano pianificato circa una decina di anni per restaurarlo. C'è che mancano ancora 3-4 anni. Non è ancora finito, ci siamo quasi. E sperano nei prossimi 2-3 anni di concluderlo. But tell us something funny or hard, something special about the discover and the restoring. What's the hardest part of the job, I mean? Yeah, first we had to... Come closer, maybe, if you don't hear. We had to cut down everything. It was very rusty. So, it was just the chassis. And then we rebuild everything. So, it was very important. Everything got straight from the beginning. Then we had very much sheet metal that we had to change. And how you get the project? I mean, the droves, the original droves? So, here we can see some pictures of what you've done? One year ago. One year ago? Perfect. We have to copy everything we... Everything we cut down. We have to copy and make new ones. Ah, ok. And then we have some contact with the other owners in the United States. Ah, ok. So, you talk with other owners and they can give you some... Yeah. It's much... It would be much easier to restore this one in the United States than in Sweden. That's the same story. Always. For every car. Every car. Ok, Nicolas. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. It's been a real pleasure. Thank you. Thank you guys for Neuro TV. Finlandia, Lati. We'll see you in the next show. Ciao. Ciao. Ragazzi, Docs parla inglese come parla l'italiano, eh? Spettacolo. Eh, sì. Ho fatto la terza media, tu come meglio. Sì, sì, sì. Col bigino, l'inglese. Allora, eh... Beh, intanto complimenti per la traduzione... Simultanea. Si sono andato un po' in confusione comunque. Niente di male. Ricordo che era una diretta fatta sul nostro canale Facebook. Cioè, colmato di telefonini e cosa senza microfoni. Ah, a proposito, dettaglio da un poco, chi riprendeva tutta questa cosa era il signor John D'Agostino. Ah, sì. Con Docs. Che abbiamo coinvolto. Che era la guest star dell'evento, tra le altre cose, che era lo Yankee Car Show. Certo. Ora, eh... Parlando di D'Agostino, mi viene in mente l'America, California. California, Daniel Patton. Ah, Dano. Grande. Dano. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi. Dano è il nostro guru, il rapporto d'assalto va ovunque, entra ovunque. Quello che per noi sembra essere, non più soltanto per lui, è la semplicissima normalità. Tutti i fine settimana. Lui ha più, cioè veramente, è ovunque. Adesso poi si è anche fidanzato, per cui sono in due. Allora, perfetto. Perfetto. In questo caso ci ha portato nella sua città, lui è di Huntington Beach, Surf City. E giusto per rimarcare quello che abbiamo appena detto, ha incontrato una persona famosa, un costruttore, potrebbe essere un tuo alter ego americano. Eh, potrebbe, magari. Eh, magari se fosse. Siete altri uguali. Sì? Sì. Ma c'è qualche altra differenza comunque che ci separa, eh? E niente, ci saluta come... Ma chi è? Chi è in contatto? Chi è in contatto? Chi è in contatto? Chip Foose. Wow, Chip Foose. Chip Foose. Ragazzi, overall, non so se... Prego. Stimavo. Ah, buona, come funziona. Governor Guaro è policlo nella nostra nostra regionale. Oh, ho backato? L'intern strategy in Italia? Come siộnci in Italia, quello? einen milan di notargelicаемo. Che è Steve Foose? Chi, non mostri noi se in Italia! avovvvvvvvvvviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviisserit aside. just wanted to say hello to all the fans of Nuevo TV take care Italy ok cool, Chip thanks very much appreciate that, how cool is that huh fellas very cool my buddy Neville Paul Mike, Jeff VK yeah all the regulars hey folks over here is Italy we're here in Running Beach, California look at this cool ride we got here it's so fine yeah, like I said, I gotta go get a power steering pump so far, that's so well check this out look at that gear shift right there and you guys are like this how detailed is that how detailed is that yeah 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 I got tons of pictures of this coming this week I just came to see him, but you walked around is there some cool cars? yeah a bunch of them oh they have already you saw this last Saturday two cars here in the village saw this last Saturday at the end of the car show look at that look at that racing car straight axle, straighter max well Docs, che dire, come in Italia, cioè tu vai in un parcheggio trovi tipo 200 macchine sbombardate che sgommano ma ne vengono e in mezzo c'è il Cipfuso che ti dà consigli su come fare a lucidare piuttosto che costruire direi perché lui è un grandissimo costruttore ed è talento di famiglia perché anche suo padre comunque era tra l'altro grandissimo Cipfuso che si è prestato ai nostri microfoni ma grandissimo Dano che non perde un colpo tutte le role che è presente abbiamo un fior di video di Dano con personaggi da cento e passa rimanendo in America possiamo parlare di Manuela ah Manuela è un editor che ci ha seguito dall'inizio si, Manuela è praticamente la molla che continua a spingere e ha dato anche lei un grosso contributo all'idea di Neurotipu si carica di entusiasmo ed è sempre la prima ad andare agli eventi più importanti tra l'altro forse lei è quella ancora più infesciata, si può dire infesciata? è custom? si, molto custom, infesciata perché fino all'anno scorso è stata la presidentessa del Mustang Club of America prima donna prima europea nonché italiana a ricoprire questo ruolo e in uno dei suoi viaggi ci fu questo questo raduno che noi chiamiamo raduno ma non lo è sono incontri che si danno appuntamento settimanalmente agli appassionati per esibire le loro macchine e modifiche e cose andiamo a vedere here we are, just look this way now that, that's a gangsta gun it's a tommi it's a tommi gun there you go it's, it's a tommi gun from the 1930's it's an Al Capone Al Capone special and you look so good in the car with it this is, this is an exquisitely done car and this Kuda is for AAR competition and da leva del cambio at the time it was this is a 70 at the time it was one of the most Grand Sport Stage 1 now, a lot of people didn't believe that Fuhrt built muscle cars but when you look under the hood of this car ok there is a 455 cubic inch V8 see that put out what was 400 horsepower and it made that Fuhrt move this is a 57, 58 let's just check I'm sorry no 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 problem ok this is a 58 nice color yes this is a very 50's color it's what I call this is what I call nauseous blue because I feel like this color this is registered as a 67 however it is if you look on the inside of the car it says contemporary classic ok so I suspect this car was sometime in the 90's but it is a very fateful restoration to what the cars were yes or at least that's my opinion that would be something that your friends literally by the way she's filming video why I did all this zero tv did you upgrade the those are pony seats yeah they're 66 yeah they're up yeah they're up yeah 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 you know I'm just going to sell my badge the one next to me Il Dietrecht? I can always tell if I'm looking at it. He died two years ago. And she was 19. And Greg is like... I'm just on and I'm out of here. I think it would be awesome. There'll be nothing there. It's just going to be an outside frame. And the door is on the outside. Exhaust pipes coming out the bumper. It's been on a cover. Nice meeting. Good luck with that. Beautiful white walls. Is that pretty or warm? It really is. This is considered America's first sports car. And for a short period of time they said it was America's only sports car. Dan is alive in the car. It's different because they walk different kinds of drivers. There are some people that disagree with me. There are some people that disagree with me. I think that the Corvette is in a different class than the Mustang. There's some people that say it's all together. And so who's right or who's wrong? He's a different driver for my opinion. He's a different driver. I can't agree with you that a different person buys a Corvette than buys a Mustang or a Camaro. How about that? You married up Mike Nagel. My name is Porter. Oh yeah? Oh, okay. They chopped the roof. Lowered the roof. Put big motors in them. It's a very big motor. But the GM671 blower? Today, of course, the fuel injection. The fuel injection. And so on. Like a diesel. Take a guess what the fuel charge is. So, this is a supercharged. I'd say probably 30 pounds. With headers. Five pounds. Be, Roberto, ma hai visto come sono considerati gli italiani negli Stati Uniti? Cioè, se gli mandi uno come la Manuela, cosa fai? Sì, sì. Non hai visto più trotti. Effettivamente. Anche perché, comunque, ero la città in testa, per cui... Ci ammetti anche che... Sei com'è. Classe, fascino da vendere, la Manuela. Se voi diventate su Levo TV, o su, anzi meglio ancora, su K4U, che sarebbe il nome del programma vero e proprio. Levo TV è la produzione di questo, il nome della pagina, il nome del canale YouTube. È l'inizio proprio di tutto. Avete modo di vedere ancora molta più roba perché vi posso garantire che ce ne sono tante di cose, ma veramente tante. Queste sono state solo cinque pillole veloci perché, ripetiamo, gli approfondimenti li potrete trovare online. Su sito o dove volete. Però, effettivamente, già con questo abbiamo praticamente girato due continenti, no? Sì. America da una parte all'altra, abbiamo parlato in italiano, in inglese, siamo andati in Finlandia. Insomma, tanta roba. Seguiteci, seguiteci, seguiteci nelle dirette della pagina Facebook perché quella è veramente la fonte ispiratrice di tutto. Da lì in parto arrivano filmati anche tre, quattro alla volta, cinque alla volta, dipende come si svegliano gli editor quel giorno e a seconda di quello che succede. Soprattutto vi aspettiamo la settimana prossima, no? Sì, la settimana prossima, sempre lunedì, sempre 23, sempre su AutoMotoTV, K4U, NeonoTV. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione